Per Campus Wave Radio ci troviamo qua con Cinzia Leone al Festival della Comunicazione di Camogli. Oggi letterà un intervento con Severino Salvemini e si parlerà soprattutto di film. La stessa domanda che io ho fatto al suo collega. Qual è il suo film preferito? Il mio film preferito è Ratatouille, o meglio in questa lista ho messo al primo posto Ratatouille. Perché? Perché è un film sulla creatività che emancipa e fa diventare uomini un topino. Ma non ce n'era bisogno. Ratatouille ha una marcia in più rispetto alla sua famiglia di topi, alla sua tribù di topi. Lui ha un sogno, lui ha una passione. È la passione che fa la storia, il racconto. E la sua passione è la mia passione. Io sono un po' come Ratatouille. Avevo una cosa in testa sin da piccola, raccontare storie. E non faccio altro. O disegnando o scrivendo racconto storie. Ti rubo la vita è la storia di tre donne a cui è stata rubata la vita. Dall'amore, dai contratti, dagli inganni, dalla storia, dalla guerra. Riusciranno a riconoscersi, a vincere sulle loro contraddizioni, a ritrovare la propria identità e a conquistare l'amore. Com'è riuscita ad abbracciare le storie di queste tre donne? Qual è il suo rapporto con le protagoniste di questo libro? Io spesso ho raccontato le donne, sia nei miei graphic novel, nei miei fumetti, che anche nei romanzi. E non le ho raccontate abbastanza, le racconterò ancora. Il mondo è nelle mani delle donne. Ce lo daranno semplicemente perché hanno fatto un sacco di pasticci. E toccherà a noi o a sanare le cose oppure a fare di peggio, non lo so. Ma le donne hanno una grande privilegio che è quello di dare la vita. Ed è un privilegio unico. Noi siamo la fabbrica della vita, naturalmente, insieme agli uomini. E questo privilegio e questa grande responsabilità ci fa fare tutti gli errori degli uomini, forse anche qualcuno di più. Ma ci rende profondamente diverse. Custodi della storia, delle storie. Queste tre donne mi hanno rubato la vita. Io ancora vivo con loro, con queste tre protagoniste, con tutti loro, padri, fratelli, uomini, amanti. E niente, sono ancora con me. Spero di rubare la vita a tutti. Lei è sempre stata dalla parte delle donne, tanto che lei è un'abituae del festival. Nel 2017 aveva tenuto uno speech sui rischi del pink marketing, soprattutto nel campo della comunicazione, e quanto sia facile cadere sempre nello stereotipo e in un maschilismo malvelato. È un argomento che rimane ancora molto attuale e vorrei sapere se forse qualcosa si è mosso. Qualcosa si è mosso, però non c'è dubbio che, proprio perché il mondo ce lo affideranno, perché non sanno più che combinare adesso, non subito ma tra un po' sì, e la storia diventa complicata e anche però molto interessante per i consumi. Cioè noi donne e noi donne, dalle giovanissime fino ormai anche a quelle più anziane, siamo un target del marketing, siamo un target della comunicazione. Noi abbiamo adesso degli stipendi, magari piccoli, ma ce l'abbiamo, quindi possiamo spendere. È cambiato tutto, è cambiato tutto dopo queste tre donne, è cambiato tutto col Novecento. Noi siamo uscite dalla guerra, noi donne cambiate, perché con la prima guerra mondiale gli uomini andavano al fronte e lasciavano tutto in mano alle donne. Noi ce la siamo cavata e abbiamo scoperto che ce la potevamo cavare. Nella seconda ancora di più, difficile rimandare indietro il film, però ci sono altri rischi appunto. Ci corrono dietro per avere, noi riusciamo a cambiare l'IVA sugli assorbenti. Abbiamo l'IVA uguale a quella della vodka, su un bene di prima necessità. Per dirne una adesso, stupidissima, non abbiamo gli asili nido. Insomma, dobbiamo metterci insieme e dobbiamo soprattutto anche metterci insieme agli uomini, perché è con loro che dobbiamo cambiare il mondo. La ringrazio per le sue parole e le auguro una buona permanenza a voi. Bocca al lupo. Anche a lei.